Siamo con Deborah Chiesa, una delle autrici della promozione in Serie A1 della Canottieri Casale Femminile. Deborah, una stagione in crescendo con la Cano e oggi è arrivata la promozione finalmente in A1. Sì, sono contentissima perché sapevo che comunque la Cano era da diversi anni che provava a salire e perdeva sempre al turno decisivo con Beinasco. Anche quest'anno ci è toccato Beinasco, ma siamo comunque rimaste unite, all'andata abbiamo fatto dei grandissimi match e adesso oggi bastavano solo due punti, siamo riusciti a portarli a casa e quindi siamo veramente contentissimi. Deborah, una stagione da singolarista sicuramente positiva, il Clou è arrivato a Roma. Sì, a Roma è stata veramente un'esperienza formidabile perché non me l'aspettavo proprio visto che non venivo da un periodo comunque di tanti match vinti, però sapevo che mi stavo allenando bene, quindi comunque sono andata lì senza pressioni, senza aspettative e ho detto vediamo, proviamo a esprimere il mio gioco, vediamo come andrà ed è andata molto bene. Anche comunque al primo turno perso con la Zurenko, 7-5, 6-2, primo sette ero avanti, è stata veramente una bellissima esperienza e poi mi ha dato più consapevolezza e fiducia, diciamo, la carica per proseguire bene la stagione e anche appunto la promozione, è stata veramente molto bella. Bene, la stagione come prosegue? Beh, ora, proprio oggi vado a Sassuolo a ritare un 15.000, qui sono in tabellone e la settimana dopo mi allenerò e poi ci saranno i tre tornei in Italia, il 60.000 a Roma che è quasi casa per me, visto che mi allena danzi ora, e poi ci sarà il 25.000 a Torino e il 25.000 a Imola, per il momento so questo, poi il resto comunque continuerò a giocare tornei da 25.000 in su e cercare di aumentare il mio ranking.